lo sapevo traditrice ti posso spiegare te la spiego io una cosa guarda qua martedì papà è il mio turno di internet stasera stavo controllando la posta e tua madre sta rubando la connessione come il sole non sono un tiranno io non sono un tiranno il tabellone è tutto il wifi non basta mai passa sky fast web fai felice la tua casa